Ha delle improvvisazioni, ma bisogna mantenere fermo una questione che la gente sente poco, e cioè avere un partito, avere un partito, perché questo è quello che viene sottovalutato, ignorato. Il partito è cambiato molto però oggi, no? Tanti difetti, lo so, ma io che ne ho conosciuto tanti a cominciare dal 44, la cosa peggiore è mollarci su quel, perché il partito è quello che mantiene, è vero, la strada praticabile, non dico pulita, praticabile. Ecco, è per questo che il partito bisogna tenere fermo. Ascolta, Otello, ma questa situazione europea, dove sembra che si facciano passi indietro continui, si innalzano nuovi muri quando pensavamo, no? Nell'89 che l'epoca dei muri fosse definitivamente terminata, come la vedi? Scusami, 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 mi devi, non ti rispondo su questo, devo fare una cosa, se me lo consente. Sospendiamo.